Benvenuti in questo nuovo video Oggi come avete capito dal titolo faremo una passeggiata insieme a voi Benvenuti in questo nuovo video Oggi come avete capito dal titolo Andiamo dal dottore per chiedergli che cos'è E vi farò vedere un pezzo della passeggiata Perché come vedete il dottore è al vicino Scusate se non si vede Il dottore è qua al vicino Quindi stiamo andando a piedi Ed è molto divertente Ciao a dopo Ciao ragazzi Siamo di nuovo nel parco prove di Giorgia Sono laggiù Stavolta ho portato anche le bambine Tanto qui non c'è praticamente nessuno E almeno posso anche Pia può correre che c'è erba Dal dottore alla fine ci devo tornare domani mattina Perché Finché non inizia a ballare Sì possiamo andare a salutare Giorgia E perché Ora sto male l'orario Siamo arrivati che lui se ne stava andando Lascialo andare Lascialo andare Via Giorgia Sì È noggiora È noggiora È noggiora È noggiora Ti sei fatta male lì? Qui ti sei fatta male? Sei caduta? Non ti levare niente Non ti levare niente No Prima non viene Non viene Non viene Diggielo di non toccare le foglie Non toccare le foglie Ci può essere la cacca del cane La pipì La pipì del cane Che schifo Molto di domanda Andrì facciamo un giro Sì possiamo fare un giro Sì che bello Oppure magari Pia Sì Sì Che schifo Pia Facciamo un giro? Sì Ok Prendi i bastoncini? No Andrì Andrì di lì Guarda No No Li metti sulla panchina? Sì Ok Andiamo da Giana? No Io vuoi fare una passeggiata Non vuoi andare da Giana? Sabrina Hai staccato un foglio Mamma mia vuole fare una passeggiata Dai andiamo a fare una passeggiata Ok Ok Sabrina andiamo a fare una passeggiata Mi dai la mano che sennò guarda che cadi di nuovo Pia non vuoi cadere Dammi la mano Pia cammina bene Dai Vieni Ma Sabrina mi ha messo qualcosa per i capelli E si è fatta male Non lo sa non chiederla a me Devi chiederla a lei E' sta tagliando l'erba Posso andare? Sì Sì Benissimo Spostati Quanto ci mette? Con quelle bellissime scarpe pulite E' di fiori in testa? Non so E' via E' via Basta fiori Basta Stiamo uccidendo i fiori Sei uccidendo i fiori Sei un'assassina di fiori Guarda Guarda Assassina di fiori Che cosa vuoi? Piano che fai cadere Pia eh Sabrina Pia rimane qui Pia Stai attento a che cadi eh Cosa fai? Ho scavalcato E sei arrivata Giada Tu vieni Vieni troppo vicino Ti stai spianto Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno Allora oggi è mercoledì Io ieri ho attaccato i fili nuovi Quelli lì Rosi Rosi eh Rose azzurri Ho fatto anche Qui vedete due Due cose più piccoline Per appenderci calze Calzini Mutande E niente adesso Questo qui è il primo cambiamento Adesso Ci dobbiamo preparare Perché dobbiamo andare dal dottore Eccoci Allora Sono stata dal dottore Che mi ha dato l'esame del sangue da fare L'esame delle urine Quindi domani mattina Ovviamente sempre con le bambine al seguito E tanto deve farli anche Sabrina Andremo a fare Scusate 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 di tutto L'esame del sangue Abbiamo comprato il pane E la focaccia E adesso Torniamo a casa Così finisco di fare Cioè vado avanti a fare le faccenne E E prepariamo il pranzo Così mangiamo Non ho ancora ben idea di che cosa fare Vi farò sapere Se mi ricordo Perché Perdo i colpi In maniera Brutale Quindi certe volte mi dimentico Io e Sabrina Siamo Alla quindicesima stagione Di Grace Anatomy Siamo quasi alla fine Di nuovo Per l'ennesima volta Se vuoi spingo io via Grazie Sei molto gentile E niente Volevo dirvi solo Santa pazienza Volevo dirvi solo questo E adesso Andiamo a casa Ciao ciao Allora Stavo parlando con Una ragazza E praticamente Ho deciso di farvi vedere bene Dov'è che mi fa male Allora qui E dove è uscito Il primo bocciolino Che presumo fosse Una ciste E qua invece Dove c'è questo boccio nuovo Che mi è venuto Dopo di questo Che mi fa male E mi fa male Sabrina seguimi Anche tutto qui Ed è pieno di linfonodi Ingrossati Che vengono avanti Fino a qua Qua c'è un altro linfonodo Che non si vede Forse dal vino No non si vede Ma io lo sento Toccandolo È una palla Vai su Fai vedere ancora Questo qui Questo qui invece E questo qui E questo nel collo Mi fanno male Però cerco di prendere La tachiperina L'ibuprofene Solamente Alla sera Perché così almeno Riesco a dormire Di giorno Cerco di evitare E basta Volevo solamente Farvi vedere Dov'è che è Il mio Questa cosa Che mi fa male In questa postazione Stiro Io sono Nonuta qui Per chiudere il video Ma volevo dirvi Cosa mangiamo per pranzo Farò un riso freddo Con Fagioli E poi Carote bollite Che ce le mettiamo dentro E poi Funghi Li metterà chi li vuole Perché Non piacciono a tutti E questo qui Sarà il nostro pranzo Un'insalata di riso Un po' così Alla veloce Con la verdura Con quel che c'è Inizio a stirare Sabrina Sta pelando Le carote E adesso Metto su Un attimino I funghi E basta Mettilo lì Per più E E Boh Ci vediamo Venerdì Con un nuovo video Sicuramente Vi porterò con noi A fare gli esami Del sangue Domani E tutto quanto E E E E vado a stirare Con immensa Immensa gioia Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Venerdì Con un nuovo video Ciao Ciao 1,2,3 Come on Come on Come on Come on Ha ahhh